Salve, eccoci di nuovo assieme. Vi ricordate quando in una delle puntate precedenti io espressi la mia perplessità e non ero d'accordo sull'utilizzo del PRP a scopo terapeutico ed anche durante, prima o dopo il trapianto di capelli. Proprio recentemente un collega di Sydney ha pubblicato un articolo sul Forum International che è l'organo di tutti i chirurghi della calvizia nel quale esprime questa sua grandissima perplessità sul PRP, anzi dice che sono un sacco di anni, ormai sono quasi dieci anni che parliamo di PRP, non è una metodica nuova perché non è stato dimostrato alcun effetto benefico e allo stesso tempo non ci si è messi ancora d'accordo su quale è la concentrazione, se bisogna aggiungere degli additivi, fare questo o fare quest'altro. D'altro canto evidenze scientifiche, ovvero risultati reali non ce ne sono stati, quindi vorremmo sapere quando è realmente efficace perché se no questo fenomeno rischia di ricordarci quello dei laser a bassa frequenza che venivano venduti per far ricrescere i capelli e vorremmo avere da questi promotori dei dati certi, altrimenti questa cosa ci ricorda un po' il fenomeno per cui sono molto più convinti dell'utilità delle procedure ai venditori di apparecchi o i promotori delle metodiche che non realmente i medici che le effettuano e questo si ripercuote anche in altre metodiche dove spesso viene associato al trapianto una specie di carrello della spesa nel quale il paziente può eventualmente acquistare e aggiungere al suo trapianto un trattamento con la SEL oppure i fattori di crescita senza che gli sia stato spiegato niente e né gli sia stato spiegato quale può essere il reale beneficio che potrà ottenere da queste metodiche e in questo è deleterio l'effetto dell'internet marketing nel quale si propongono queste metodiche e tutti i pazienti che sono desiderosi di migliorare la loro capigliatura cercano di aderire proprio perché farebbero qualsiasi cosa pur di ottenere un risultato.